Sei condanne per altrettanti imputati. Queste sono le pene sollecitate dal Pubblico Ministero Pasquale Mandolfino della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, a conclusione della requisitoria nel procedimento diritto abbreviato derivante dall'inchiesta crimata. Davanti al giudice per le udienze preliminari, Mario Santo M., il PM ha delineato il quadro accusatorio che coinvolge i sei imputati nell'operazione scattata il 19 gennaio 2023, quando la Guardia di Finanza di Crotone ha eseguito sei misure cautelari. L'operazione crimata dal greco antico Ricchezza è stata avviata dalla Procura Antimafia di Catanzaro con l'obiettivo di smantellare una presunta associazione a delinquere legata alla Coscarena Nicoscia di Isola Caporizzuto. Secondo l'accusa, tra il 2013 e il 2018 questa associazione avrebbe orchestrato un vasto sistema di frode fiscale tramite le emissioni di fatture false per un totale di 5 milioni di euro, coinvolgendo ovviamente diverse imprese del settore edile. Le fatture false erano state destinate agli allora amministratori delle società Marelli Hospital, Tecnologica ed Esperia TV, con l'intento di ottenere indebitamente l'imborsiva. Nel contesto dell'inchiesta, l'attenzione del magistrato si è concentrata in particolare sulle posizioni dei commercialisti Francesco Quattromani e Eugenio Valenti. Per Quattromani il PM ha richiesto una condanna a cinque anni di carcere, mentre per Valenti ha proposto quattro anni di detenzione. La direzione distrettuale antimafia addebita ad entrambi il reato associativo, sostenendo che avrebbero collaborato con l'imprenditore Mario Esposito, ritenuto affiliato alla Coscarena e imputantolo nel processo crimata, in corso a Crotone Corrito Ordinario. La loro collaborazione avrebbe riguardato l'intestazione fittizia dell'azienda a prestanome e la creazione di un sistema di falsa fatturazione per eludere il fisco. Il PM Mandolfino ha ricostruito dettagliatamente il meccanismo fraudolento, evidenziando come l'operazione fosse finalizzata non solo a fraudare lo Stato, ma anche incrementare illecitamente le risorse economiche della Coscarena-Nicoscia. La requisitoria ha sottolineato la gravità delle accuse, presentando prove che dimostrerebbero la partecipazione attiva degli imputati al sistema crimine. L'inchiesta crimata rappresenta un caso emblematico di come la criminalità organizzata possa infiltrarsi nel tessuto economico legale, sfruttando le imprese per fini illeciti e danneggiando gravemente l'economia laguale. La richiesta di condanna avanzata dalla DDA di Catanzaro è un chiaro segnale della determinazione delle autorità nel contrastare tali fenomeni e nel perseguire chiunque si renda complici di queste attività criminali. Ora aspetta al giudice per le udienze preliminari esprimersi sulle richieste di condanna in attesa che la giustizia faccia giustamente il suo corso.